Allora, stiamo andando in terrazza, stavolta certo 100% stavolta si fa il content ma prima ramen con mamma e francesca e tocca vestirsi bene quindi tocca mettere la camicia non metto una camicia da non so quanto te sto tutto di fretta pensavo di avere tempo invece non ce l'ho pulite air force carpe da tennis mi portano a casa sicure stanotte ok correre manco mi son pettinato madonna perché qui a milano un giorno ci sono meno due gradi un giorno ce ne sono undici ma com'è possibile sta storia oddio la tematizzazione super verrà ce l'abbiamo carino e lei ha il ramen qua il posto per il ramen come è? comunque pazzesco cioè pure il soffitto è tematizzato solo per la location vale la pena come è il ramen? uguale stiamo andando non ho capito se 22 22 30 ma almeno andiamo guardalo là però quel deficiente troppo ragazzi ragazzi guardatevi ho portato e devo farsi una bella inzina no yeah allora la mia compagnia della norvegia non è venuta qua con le sue amiche perché chiaramente c'erano tipo questi 50 anni che ci stavano provando e l'hanno portata tipo dentro sul balconi dentro la galleria che si vede proprio dall'interno che tipo non fa parte della terrazza è una roba vabbè dai 50 anni a mima è un bel salto di qualità noi saremo lì sopra lì c'è la gente ricca e qua c'è la gente povera è giunto anche il pj niente non si entra entra non entra entra ok ragazzi Dani mi voleva prendere per il culo prima dicendomi che era San Babali e quando dalla nostra posizione è ancora a casa sua quindi io e Seba abbiamo più Seba che io abbiamo deciso di tirarlo in mezzo perché è vero sono onesto adesso stiamo tirando in mezzo e mi hanno detto che siamo a fare il pre a casa di Seba che abita vicino in Duomo se volete la sua posizione esatta scrivetemi il DM quindi ragazzi si presenta sotto portaini di casa di Seba con una boccia di vino e noi non ci siamo e ci tofano e non ci siamo ragazzi godo come il cane dai insieme di sto video qual'è il piano ragazzi? come entriamo ragazzi? come entriamo lì? dai andate 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 vai via 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 stiamo tentando l'entrata e all'ingresso abbiamo incontrato un simpatico signore che nomineremo a San Dio che ci ha detto e no non potete entrare in lista tranquilli vi faccio lo sconto invece di un tavolo da 500 euro vi faccio un tavolo da 250 40 euro a testa stiamo valutando altre opzioni una è la birreria in camicia l'altra è vabbè il content si fa comunque anche se non si va in terrazza insieme con la violenza sulle donne sei contro? c'è scritto anche lì che sono contro non sai ragazzi non va l'ascensore 15 piani bro io non cappo come forza bro ho stampato? io non lo so no no li sei stampato contro l'azio sono stampato no no Samu dai sei cilio che facciamo? un c***o minchia ragazzi stai in torre in azione i voti diamo bitto me me mi disidando me mi disidando cosa è successo? guarda 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 bravo bitto aspetta fai fisica fisica inglese guarda aspetta il 4 è per i compi questi scappano vanno in terrazza forse 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 l'eroe ma no fra non fare ste cazzate è l'eroe è l'eroe non succede anche secondo me non succede massimo bireria ma se succede ma se succede io c'ho 40 euro precisi praticamente mi bello tutta la fresh e niente niente stiamo andando in bireria come i vecchi non è che fossero giovani eh ragazzi bello è te Leo ci ha fatto uno sconto all'odio niente mio fratello ci lascia no seba no niente ogni cavolo di strada finisce così che non andiamo mai dove dovevamo andare inizialmente siamo entrati in bireria ci sono i giochi da tavolo no 2 3 4 ragazzo monopoli no se ne abbiamo il trucco di magia qua mezzo ammazza a casa adesso guarda passo dietro ho fatto il tocco magico adesso io non so dove sia posso anche mischiare no vabbè vabbè un mischio la tua carta è l'unica girata a comprare no guardalo guardalo ciao sono Samuele questo è il mio quasi mezzo primo bicchiere di birra che discorso faccio? i video che ho fatto finora sono una me il contenuto raga votate la sua pelata dei commenti per favore sono fondatino eh vai 5 4 45 45 pan 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 journey qualcosa occhio che qui abbiamo una gara di freestyle perché si sa che lei è una bella tro allora sentiamo se questi video li pubblici su youtube io ti denuncio basta guarda che succederà guarda che succederà sono un tiktoker 7k for real ciao sono Samuele e questo è il mio ultimo bicchiere di birra su non mi ricordo 8 sono un tiktoker professionista 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10